Ha sparato contro il portone d'ingresso di un condominio di Chivasso. Un italiano di 52 anni disoccupato con precedenti penali è stato arrestato ai carabinieri della compagnia di Chivasso per ricettazione, portabusivo di armi, oltraggio, violenza o minaccia pubblico ufficiale. Ieri sera l'uomo era spasso con il cane, un passante l'ha visto estrarre una pistola e sparare un colpo contro la portavete di un condominio. Il testimone ha chiamato 112 e l'immediato intervento dei carabinieri ha permesso di nitracciare l'uomo. Era visibilmente alticcio e ha minacciato e insultato i carabinieri. In tasca nascondeva una pistola a tamburo, calibro 6,35, priva di matricola, che è stata sequestrata. L'uomo ha dichiarato ai carabinieri di aver acquistato l'arma a Torino. La pistola sarà inviata all'arma per verificare se sia stata eventualmente utilizzata per commettere delitti. Le indagini dei carabinieri proseguono per accertare la provenienza dell'arma e per capire e ricostruire la rete di collegamenti dell'arrestato. Grazie a tutti.